La crisi dell'Accademia è determinata dal fatto che sono diminuite le adesioni. Abbiamo fatto un congresso nazionale a Matera, abbiamo goduto delle bellezze di Matera, ma abbiamo anche discusso come affrontare la crisi. L'imperativo obbligatorio che è venuto fuori da parte di tutti i delegati è uno solo, che l'Accademia non può chiudere e quindi stiamo predisponendo un programma, una serie di progetti per sollecitare le adesioni. Non dovrebbe essere cosa impossibile perché in effetti l'adesione all'Accademia Italiana del Peperoncino costa soltanto 60 Euro e quindi si può recuperare qualche cosa. Certo abbiamo avuto una flessione di più del 50%, quindi abbiamo in programma una serie di iniziative, convegni, organizzazioni in tutta Italia, cene a tema in tutte le maggiori città d'Italia per rastrellare un po' di nuove adesioni e soprattutto avere la conferma delle vecchie adesioni. Abbiamo avuto una serie di messaggi di solidarietà, primo fra tutto quello dell'onorevole Magorno che è concittadino dell'Accademia perché vive ed è stato eletto di avanti in Calabria, che si è impegnato anche lui a darci una mano, a predisporre una serie di incontri anche in Calabria e a Roma, soprattutto col nuovo presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, per cercare di affrontare insieme questo problema che interessa un po' tutti per salvaguardare le attività che l'Accademia ha fatto negli ultimi 22 anni e che vorrebbe continuare a fare al servizio del territorio.